E beh, noi non abbiamo ancora fatto niente, perciò io eviterò di toccarla finché non sarà passato un po' di tempo. E quando glielo dirò, l'avrò già conquistata e non le importerà più che sia un cane. Linee. Due. No. Tre. Linee ondulate. Sorprendente. Tu sei sorprendente con la tua capacità di amplificare i miei poteri psichici. Non posso credere che davi la scossa agli studenti. Detto tra noi, lo facevo solo con i maschi. Hai presente il Dream Team? Beh, noi siamo il male, Dream Team, smidollato. Non vuole. Dice che sei troppo piccolo, che è lontano e che non c'è posto. Preferisce portare quell'altro imbecille? A ogni modo, saremo presto di ritorno, sai? Diamo loro la botte. Grazie, arrivederci e tanti saluti. Non ti perdi, granché. Oh, davvero. Oh, davvero. Oh, davvero. Grazie a tutti.